Qual è il destino di questo partito? Quali forze vogliamo rappresentare? Questa è la posta in gioco e questo è il punto su cui io mi appassiono perché sono convinto che domenica non è in discussione soltanto la scelta di un nome, di un nuovo volto, non possiamo ridurre tutto questo a un rimpallo di battute, non è un battutismo che ci salverà dalla crisi di questi anni, che ci farà rinascere, il problema non è il battutismo più o meno felice, il problema è se battiamo la destra, non se facciamo delle buone battute, se battiamo la destra e la devi battere, la puoi battere se riscopri le radici profonde della tua identità. La sinistra è questo, la sinistra non è una pagina della storia passata di questo paese, come qualcuno vuole raccontare o fare, intendere, la sinistra è l'anima di questo progetto, è l'elemento che gli dà senso, che gli dà una natura e che si colloca nel futuro di questo paese per i prossimi anni. Questa è la posta in gioco. Domenica non si sceglie solo un nome, un volto, tantomeno una cravatta. Domenica si decide in qualche misura sull'autonomia culturale della sinistra italiana e del progetto del partito democratico. Domenica!